Musica Le marche restano in zona gialla, per il passaggio al bianco serviranno altre settimane. Un pensionato muore mentre sistema la vigna in un campo a bordo del trattore. Le strade fanesi sono piene di buche e a protestare ci sono anche i turisti stranieri. In lungomare di Pesaro si rifà il look, lanterne luminose, fioriere colorate, sedute moderne lungo Viale Trieste. Tutti pazzi per il giardinaggio fai-da-te, il lockdown ha riacceso la passione per le cose buone della terra. Al Codma di Fano, sabato, il CB Club Mattei festeggia i suoi 35 anni di attività e inaugura la nuova sede formativa. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Occhio alla notizia sul canale 17, come avete sentito, dunque le marche restano in zona gialla. Lo saranno anche per la prossima settimana, così come era stato previsto. I dati esaminati dalla cabina di regia non sono ancora da fascia bianca, per la quale servono tre settimane consecutive senza superare il limite di incidenza di 50 casi ogni 100.000 abitanti. Nell'ultima giornata, nelle Marche, non ci sono stati e non si sono dunque verificati decessi per coronavirus. Invece i nuovi positivi sono 103, di cui 45 nella provincia di Pesaro e Urbino. Negli ospedali della regione ci sono invece 8 ricoveri in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva scendono a 30, mentre il numero di degenti in semi-intensiva resta invariato a 52. Tregedia nella tarda mattinata di ieri in un'azienda agricola di famiglia in via strada di Mezzo, al confine tra Ponte Sasso e San Costanzo. Il titolare, Dino Mattioli, 87 anni, per causa ancora in fase di accertamento, è stato trovato a terra disanguato e agonizzante. Poco distante il trattore ancora in moto, impigliato nella struttura in ferro nella vigna. All'arrivo dei sanitari purtroppo l'uomo era già deceduto. Tra le ipotesi sulle quali indagano i carabinieri di San Costanzo, ci sono il malore e il caso furtuito. Mattioli, infatti, prima di finire a terra, ha abbattuto con il trattore diversi paletti di ferro piantati nel terreno ed è rimasto trafitto da uno di questi agli arti inferiori. Sul posto anche il personale dell'Asur. La salma è stata portata a Fano per l'ispezione cadaverica. E adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni che oggi ci portano sulle colline di Fano, per l'esattezza al prelato, dove i residenti e i commercianti chiedono a gran voce il rifacimento delle strade. Le strade fanesi sono ormai piene di buche. A protestare ci sono anche gli stranieri. È un dovere del comune che deve essere adempiuto. Sappiamo che le strade sono tante le difficoltà pure, ma dovremmo essere considerati al pari di tanti altri cittadini. I residenti e gli operatori commerciali della zona del prelato lanciano un appello al comune di Fano per chiedere i lavori di asfaltatura delle strade, piene di buche, anche profonde, rattoppi qua e là e avvallamenti. È una strada, anche se piccola, molto trafficata e quindi anche quei pochissimi rattoppi che vengono fatti durano il tempo giusto di qualche giorno per poi tornare come prima. Avete organizzato anche una raccolta firme? Sì, abbiamo organizzato una raccolta firme che abbiamo consegnato in comune ormai più di un mese fa. Abbiamo raccolto molte firme, più di un centinaio, sia di persone della zona che di persone che frequentano e tengono al posto. Oltretutto è un luogo molto bello per la città di Fano e quindi è anche un posto che secondo noi è molto importante valorizzare, sia per i fanesi che per tutti i turisti che vengono qua. Inoltre, spiega Alessandro, abbiamo segnalato tutte le strade che versano in pessime condizioni, ma la via che presenta maggiore criticità è quella che da centina rola conduce alla chiesa del prelato. Dal comune però si attende ancora una risposta, diversi intanto i turisti, italiani e stranieri, che ci hanno raccontato la loro esperienza, come questa ragazza cinese venuta a Fano con la sua famiglia durante il tour nelle Marche perché aveva letto online delle buone recensioni. Il posto le è piaciuto, così come le persone molto carine e amichevoli. L'unica pecca, detto, sono le condizioni delle strade. Infatti, racconta la ragazza, avevamo noleggiato un'auto e avevamo paura di danneggiarla. Anche la signora Isabella di Forlì è stata a Fano con un gruppo di amici due settimane fa. Dopo un pranzo a base di pesci in un ristorante, volevano visitare l'eremo di Montegiove e passando per le aziende vitivinicole del prelato per acquistare del buon vino. L'idea però è sfumata strada facendo. Non siamo arrivati in fondo perché la strada è totalmente impercorribile, bucche gigantesche, tenuta malissimo, tutto l'asfalto ammalorato, non c'è un tratto percorribile in sicurezza. Tra l'altro abbiamo anche delle auto notevoli, e nonostante questo veramente abbiamo rischiato di fare dei danni all'auto. Come avevo detto, non siamo arrivati in fondo, siamo tornati indietro, ma a queste condizioni penso che verremo più. Identica la situazione anche per Ludovica, una giovane siciliana. Le condizioni della strada, nonostante i mezzi adeguati, ci hanno impedito di raggiungere i luoghi desiderati. Ci è dispiaciuto tantissimo, anche perché volevamo acquistare dei prodotti tipici locali, ma purtroppo non siamo riusciti nel nostro intento. La strada era veramente in condizioni terribili. Spero che la mia voce, insieme a quella delle altre persone, possa far sì che la situazione migliori e che questi luoghi diventino più agibili e fruibili per il turismo nazionale e internazionale. Noi chiediamo al Comune di intervenire più presto, anche perché è capitato per esempio anche a me personalmente un paio di volte di bucare la gomma della macchina, quindi è anche una situazione che a volte può anche essere non solo una cattiva pubblicità, ma anche proprio a tutti gli effetti pericolosa per le persone che vivono qua e che vengono qua anche per tanti altri motivi. Invece il lungomare di Pesero, stiamo parlando nello specifico Viale Trieste, e si rifà il look. Parallelepipedi come sedute, gazebo per esposizioni e iniziative, fioriere e colorate. Sarà questo il colpo d'occhio lungo le isole pedonali di Viale Trieste, piazzale d'Annunzio sul lungomare di Pesero. Pedonalizzazione che quest'anno inizierà a partire indicativamente dal 9 giugno e non prima, come inizialmente si poteva pensare. Il Comune si sta già adoperando assieme alle aziende addette ai lavori per allestire la passeggiata pedonale, che sarà illuminata da centinaia di lanterne. Ad annunciare le novità di fronte alle telecamere di Fano TV, l'assessore alle opere pubbliche Enzo Belloni. L'idea è di confermare innanzitutto l'isola pedonale dello scorso anno con delle riduzioni rispetto alla ZTL nella zona franca, quella dove era permesso il transito a Pullman e auto. Quella chiuderà alle ore 19. Abbiamo deciso di confermare la ZTL perché continuiamo a parlare di benessere, di riduzione del CO2, di mobilità sostenibile e avere lungomare con le auto che scorrazzano 24 ore insomma non è il massimo. Questo l'abbiamo voluto fare perché siamo riusciti a confermare il progetto di Villa Marina, quindi acquisire l'area, recuperare circa 160 posti auto nell'ex area sportiva di Villa Marina che sono ben di più di quelli che andiamo a togliere con la pedonalizzazione. L'obiettivo è quello di far sì che il lungomare sia vissuto e fruibile. Abbiamo accolto alcune richieste degli operatori, cioè quella di aumentare l'orario del carico e scarico, quindi portarlo fino alle 11. I taxisti possono comunque passare per andare per fare il loro lavoro, per prendere e accompagnare i turisti negli alberghi. Noi abbiamo puntato quest'anno sull'illuminazione, quindi già da questo fine settimana inizieremo a preparare le predisposizioni per le illuminazioni, le lanterne che erano in centro abbiamo deciso di metterle sul lungomare, abbiamo acquistato circa 25 sedute, abbiamo previsto circa 55 fioriere lungo tutto il viale, dal 6 al 7 iniziamo i lavori e appena terminati faremo l'inaugurazione del viale e la pedonalizzazione diventerà ufficiale. Quindi indicativamente sarà tra il 9 e il 10 di giugno. Adesso invece andiamo a Monte Gilberto in provincia di Fermo, perché il presidente della regione Acquaroli con Valentina Vezzali, che è la campionessa di sport di scherma ma che oggi è sottosegretaria, hanno inaugurato un campo polivalente. In questo momento sono davvero emozionata e contentissima di poter vivere insieme a tutta la comunità di Monte Gilberto questa giornata all'insegna dello sport. Valentina Vezzali, sottosegretaria allo sport, ha inaugurato oggi il nuovo impianto polivalente di Monte Gilberto in provincia di Fermo, recuperato e rigenerato con il contributo del fondo sport e periferie. La struttura, situata nel centro della cittadina, ospiterà diverse discipline, calcio a 5, pallavolo e tennis. I lavori hanno riguardato la realizzazione del manto, ora in erba sintetica, la gradinata, spettature in legno, il nuovo impianto di illuminazione con luci LED e il completamento degli spogliatoi. Lo sport deve ripartire dall'impiantistica sportiva, le persone hanno bisogno di tornare alla pratica sportiva a fare attività fisica e poter sapere di poter vivere questa giornata insieme ai tanti ragazzi e dare la possibilità a loro di offrire uno spazio dove poter crescere secondo, imparando il valore delle regole, il rispetto dell'avversario, dei tecnici, imparare a fare gioco di squadra è davvero importante. La ripartenza parte proprio da qui, dalle marche, dal centro dell'Italia e il mio pensiero è stato quello di lanciare un messaggio di speranza e di ripartenza del mondo dello sport proprio da qui. Vezzali è stata accolta insieme al governatore dal sindaco Giovanni Palmucci che ha sottolineato la vicinanza delle istituzioni. Abbiamo il grande compito, ha sottolineato invece il presidente Acquaroli, di dare risposte alle generazioni future e dare loro le condizioni per vivere la nostra bella regione perché orgogliosi della terra in cui vivono. In un paesaggio straordinario con tanti ospiti illustri per dire sempre di più che lo sport oggi soprattutto dopo la pandemia e le restrizioni che abbiamo dovuto subire è un elemento di aggregazione socialmente molto importante per la formazione dei giovani per far sì che si possa recuperare uno spazio di quotidianità che va al di là del risultato e della questione proprio anche veramente sportiva e fisica ma che è un elemento di aggregazione con una valenza sociale straordinaria. E il lockdown probabilmente ha riacceso anche la passione per l'orto e il giardinaggio. Un modo per rendere più accogliente e portare colore all'interno di un ambiente come la casa dove prima come in lockdown e poi con le varie chiusure si è trascorso gran parte del proprio tempo. Il giardinaggio non ha mai conosciuto crisi durante un periodo duro come quello della pandemia. In molti hanno riscoperto la cura della casa e del giardino, coltivare un orto o colorare giardini e terrazzi con fiori e piante di ogni genere tipo sembra aver aiutato gli italiani a superare un periodo duro come quello delle chiusure alleviando lo stress e portando benessere attraverso il contatto con la natura. Tutti si sono avvicinati al giardinaggio come fonte di benessere ed è stato un fenomeno mondiale. La natura ha il bisogno di stare in casa con comunque il verde. Il verde quindi è stata una rivincita per tutto il nostro settore che ci ha sempre creduto e che non è un settore di commercio fine a se stesso. Il giardinaggio è una passione che non si è fermata con la fine del lockdown ma è continuata anche con le riaperture. Le piante che al momento vanno per la maggiore, ha spiegato Luana, passano dai prodotti da orto agli agrumi alle piante subtropicali come i banani. Soprattutto è una ricerca del prodotto a chilometro zero, cioè prodotto in casa e mangiato al momento. Quindi orto, tutto quello che è orto, orto anche in cassetta, orto nel terrazzo, orto in vaso. Chi non ha la possibilità di avere un pezzettino di terra oppure comunque si ricava un pezzettino di terra nel giardino per fare l'orto. Quindi anche qui i giovani si sono molto avvicinati a questo settore che era esclusivamente degli anziani, l'orto o dei nipoti. Quindi adesso c'è una fascia d'età che si interessa anche a questo. E questo insomma è di soddisfazione. Tra i fanesi c'è chi si è avvicinato al verde durante la pandemia e chi invece coltivava questa passione già da tempo. Questa passione per il giardinaggio è continuata anche con le riaperture? Sì, sono appassionata. Durare il prato, la siepa, un po' di tutto, mettere fiori. Mi è sempre piaciuto un po' nel giardino mettere qualcosa, ma non avendo tempo, non avendo... Allora metto quando posso, quando mi viene la voglia. Adesso voglio vedere dei fiori che vanno in pieno sole. Forse in questo periodo un po' di più, ti curi un po' più la casa col fatto che siamo comunque stati obbligati a rimanerci. Sì, sì, dai fiori danno allegria. Sì, sicuramente questo periodo di più, più giardinaggio. Ho un pezzettino di terra di sotto, allora ho messo i cetrioli, i pomodori nel terrazzo. È stata una bella soddisfazione. Giuseppe Franchini, già alla guida del coro polifonico manatestiano, il nuovo presidente di Avis Fano. Succede a Marco Savelli. Puntare sui giovani e sullo sport e mantenere un dialogo sia con le parrocchie sia con l'associazionismo sono gli obiettivi di Giuseppe Franchini, neopresidente di Avis Fano, eletto nei giorni scorsi dopo le votazioni di sabato 8 e domenica 9 maggio. Già presidente del coro polifonico manatestiano, del Lions Club e della fondazione Sorelle Mondo, Giuseppe è impegnato da anni nel volontariato al quale ha dedicato tempo, impegno e costanza. Forse pensavo di chiudere questa esperienza che avevo condotto per due mandati, ma iniziando anche prima, dal momento che l'allora presidente dell'Avis Fanese, Massimo Seri, mi aveva chiesto di elaborare un progetto per le scuole. Fece questo progetto, il progetto funzionò, è cresciuto enormemente nel tempo, è diventato una delle punte di diamante dell'Avis Fanese e quindi la presidenza mi ha un po' sorpreso, però tutto sommato mi induce di nuovo a rimboccarmi le maniche e riprendere il lavoro. Giuseppe succede a Marco Savelli e avrà al suo fianco il consiglio direttivo composto da 15 persone, tra conferme e nuovi ingressi. Veronica Verna sarà la vicepresidente, Andrea Vitale il segretario, Francesco Mulazzani il tesoriere e Fabrizio Tito il consigliere esecutivo. Tre invece, volontari che compongono il collegio dei revisori dei conti, mentre la direzione sanitaria è assegnata a Maria Teresa Giommi. Per Veronica sarà fondamentale far crescere la cultura del dono, non solo di sangue e plasma, ma anche di organi midollo. Avis è l'associazione più longeva della città, ha ricordato invece il sindaco Massimo Seri, negli anni ha proseguito, è stata capace di rinnovarsi continuamente grazie ai gruppi di volontari che si sono succeduti, persone di cui ci si può fidare e che si sono sempre impegnate, anche nel periodo più difficile della pandemia, durante il primo lockdown. Essere qua è una missione. C'è anche una forte componente femminile che porterà sicuramente un valore aggiunto alle attività del prossimo quadriennio. Indubbiamente, essendo già stato nel vecchio consiglio, ragiono anche in termini di continuità. Probabilmente dovremo rafforzare ulteriormente la managerialità del volontariato, della generosità dei nostri donatori, ma soprattutto io credo che dovremo lavorare in maniera molto intensa, allacciando o rinforzando ancora di più il contatto con gli oltre 2.600 donatori che in tempo di pandemia ci hanno sorpreso, perché nonostante la paura, nonostante le tante domande, nonostante i disagi che c'erano, hanno mantenuto in maniera egregia il livello donazionale, perché le oltre 4.200 donazioni indicano veramente che c'è un cuore generoso nella città di Fano su cui possiamo ricostruire tanto futuro. Buon lavoro. Grazie. Domani, domani sabato, al Codma di Rosciano di Fano, il CB Club Mattei festeggerà il 35esimo anniversario di fondazione e l'occasione, questa grande cerimonia, sarà anche quella di far vedere i nuovi locali appena terminati. E' il domani sabato. Domani è appunto un giorno importante per noi, sia il 29 sia il 30, perché dopo un paio d'anni di lavoro siamo riusciti a sistemare con i nostri volontari l'area formativa, un'area che verrà messa a disposizione di tutto il mondo del volontariato e non del sistema di protezione civile, sia provinciale, sia regionale e sia locale. Un'area che ha tre aule in pratica formative, ha otto uffici in cui tutto il mondo può tranquillamente prepararsi su questo. E quindi secondo noi è un'area molto molto importante. Saranno presenti soprattutto per spiegare ai cittadini che la protezione civile non è il volontariato, ma è un sistema, quindi saranno presenti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale, la guardia di finanza, la capitiera di porto, la croce rossa e così va davanti. Ampas, tutto il sistema, il dipartimento di protezione civile, un po' tutti, si rappresenteranno e si racconteranno su questo casello. Non è stato possibile far intervenire le scuole, perché era in programma, avevo già preso degli accordi con dei presidi, ma ancora la pandemia non lo permette. Quindi le scuole verranno collegate in streaming, c'è un progetto europeo con la Croazia in cui verrà comunque un collegamento in streaming e quindi il tutto verrà visionato e capiremo meglio che cos'è il sistema di protezione civile. Quindi una giornata per noi molto importante, dove tra l'altro c'è anche il nostro 35esimo, quest'anno sono 35 anni. Abbiamo unito le due cose e quindi un endilo avevamo tenuto queste due date, il 29 e il 30. Tutto questo però stamattina ci ha un po' rammaricato e lasciato sorpresi quando un giornale ha scritto che la protezione civile fa festa e quindi ha discapito dei vaccini dei cittadini. Questo ci ha un po' disturbato, perché ASUR sapeva prima di concedere la struttura che il 29 e il 30 era impegnata, purtroppo perché il sistema computerizzato da comunque gli appuntamenti del 29 e del 30, ci è stato detto che sarebbero stati spostati un giorno dopo il 31 e l'1 con un semplice SMS, così sarebbe successo senza tante polemiche, ma l'articolo di un giornale stamattina che ci dipinge come festaioli a discapito dei vaccini ci ha un po' amareggiato e ci lascia un po' di sconforto. Questa è dunque la situazione. Allora, noi ci fermiamo qui, c'è la pubblicità, le previsioni del tempo, poi la programmazione di FanoTV, l'informazione torna domani mattina alle 7 puntuali con Occhio ai giornali, la rassegna stampa. Arrivederci. Grazie.